Lasciamo la cronaca, passiamo alla politica, la discussione in aula del Consiglio regionale sul tema della riorganizzazione del trasporto pubblico porta alla sorpresa di un emendamento che nel voto mette in minoranza il Presidente Donato Toma e l'Assessore, Vincenzo Niro. La notizia sta tutta in quell'undici a dieci in cui al Consiglio regionale i sei consiglieri del Movimento 5 Stelle più i due del Partito Democratico più tre della maggioranza Iorio, Calente e Aida Romagnuolo hanno sbeffeggiato la maggioranza del Presidente Toma e dell'Assessore Niro approvando di fatto una proposta di legge emendata e sostenuta così modificata dagli undici. Dunque il Governo regionale va sotto, incassa una sconfitta che racconta di uno stato di difficoltà nella coalizione del centrodestra, dove si rincorrono critiche e forti distinzioni, anche e soprattutto verso gli uomini di una giunta che non ha saputo evolversi e ascoltare le spesso adeguate e puntuali precisazioni dei singoli consiglieri, non delle opposizioni che svolgono un loro mestiere da oppositori, ma da alcune battagliere presenze in maggioranza. Critiche, spesso confluite nel voto, che fino a qualche giorno fa avevano salvato il Presidente Toma e i suoi uomini in giunta e quelli più fidati, ma che oggi escono con l'onda della sconfitta. I vincitori sono loro, più che i consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle del PD, sono loro quelli che chiameremo dissidenti e che si sono vestiti di un emendamento che ha portato all'approvazione della proposta di legge appunto modificata dal voto contro Toma e Niro. Da qui, le note che sottolineano lo stato di cose, inizia il gruppo del Movimento 5 Stelle che parla della sua linea, che passa vittoriosa, della tutela dei lavoratori, dell'otto unico per l'espletamento della gara e della procedura aperta, in un tutto che chiede a voce alta la decisione finale che Toma e la giunta si dimettano. Anche Micaela Fanelli interviene e parla letteralmente di una debacle politica che ha l'unico merito di aver impedito il pastrocchio amministrativo, lavorativo e sociale di iniziativa della giunta regionale, che dopo un anno e mezzo di proclami e il maldestro tentativo di riformare il settore del trasporto pubblico, con un colpo di mano in prossimità del Natale, viene malamente battuta in aula. Niente doppio lotto e niente procedura di gara ristretta. La maggioranza resta senza numeri per governare. Anche Filomena Calenta invia nelle relazioni una nota specifica. Afferma che nel presentare l'elementamento ha ascoltato le esigenze dei cittadini, quelli che non viaggiano con l'auto blu o con le automobili.